Buon lunedì! Nel Vangelo di oggi un uomo dimostra di sapere qual è il comandamento più importante tra tutti e cioè amare Dio il prossimo. Possiamo dire che è molto ben preparato sulla teoria ma vediamo che ignora la pratica e questo può accadere anche a noi. Sulla teoria siamo ben ferrati ma sulla pratica lasciamo a desiderare. Ok sappiamo che ciò che conta di più nella vita e amare? Ce l'ha insegnato Gesù ma poi amiamo davvero? E chi dobbiamo amare? L'uomo chiede a Gesù ma chi devo amare? Non si sa se glielo chiede in modo provocatorio o se veramente non sa chi amare e il comandamento così come è enunciato ci aiuta a comprendere ama il tuo prossimo cioè devi amare chi è prossimo a te, chi hai vicino, chi incontri sulla tua strada, sul tuo cammino e non delle persone astratte. L'amore non è qualcosa di astratto o è concreto o non è punto. Non devi amare chissà chi l'amore non è una sorta di teoria ma è pratica e si comincia innanzitutto da chi è vicino a partire dalla cerchia familiare. A volte è più facile amare fuori casa. Iniziamo invece ad amare a partire dal nostra famiglia, da quello che è il nostro partner, dai figli, dai vicini di casa, dai colleghi, dai parrocchiani, dalle persone che incontriamo ogni giorno per lavoro o per caso nella loro concretezza. Quell'uomo sembra smarcarsi, sembra voler trovare scuse fingendo di non sapere chi è il suo prossimo. Credo invece che lo sapesse molto bene chi era il suo prossimo ma preferiva tergiversare e anche noi spesso facciamo così. Parliamo di amore ma in teoria, in modo ideale, però poi va messo in pratica proprio là dove ci costa forse farlo, cioè nel concreto della nostra esistenza. È bello e facile il parlare di amore in modo astratto, è molto difficile invece viverlo, viverlo nelle situazioni concrete e con le persone che si fanno noi vicine. Buon inizio di settimana a tutti.